Di cose legate a private equity, investimenti, fondi, eccetera, così colà. Di cose di calcio un pochino, posso parlarne, un po' ne so. Di cose burocratiche poco o niente, se non quello che subisco, diciamo, o quale mi avvantaggio, come cittadino, come privato cittadino, al pari di tutti voi. Quindi affrontare l'argomento dello stadio è volerlo fare parlando da uomo della strada. Quindi volerlo farne parlando proprio da un marel che si mette al cantiere e guarda l'ipotetica di strutturazione di San Siro. Sul tema invece del presidente, del nostro presidente cardinale, del nostro patron cardinale, confondo sempre il presidente col proprietario, torneremo più tardi, torneremo a parlarne attraverso un pensiero che mi è arrivato da un amico. Parliamo della questione stadio, perché oggi è stato presentato questo progetto per la ristrutturazione di San Siro. Non si è capito bene se a carico eventualmente delle squadre che a San Siro ci rimarrebbero. In questo momento sembra essere solo l'Inter, dato che il Milan sta portando avanti, immagino tra mille difficoltà non del tutto imputabili a Redbird, la questione di farlo a San Donato. Ma nel frattempo il sindaco di Milano, Sala, ha presentato il suo progetto. Ha presentato il suo progetto di ristrutturazione di San Siro, di ammodernamento dell'impianto, di una parte di Skybox, tutti quei comparti di hospitality, cosiddetto, che servono per attirare un pubblico di un certo tipo o comunque per creare un certo evento. E quindi ripulire un po' San Siro, rimetterlo a posto, cambiare un po' di cose, eccetera. E tutto per un investimento, a quanto si è detto, sui 300 milioni di euro. 300 milioni di euro, come dicevo prima, non si è capito chi dovrebbe pagare. Perché in questo momento la situazione dello stadio, dello stadio del Milan, dello stadio dell'Inter o dello stadio di Milan-Inter, è una situazione che sembra, per quel che riguarda noi, avviata verso l'intenzione, se non altro, di costruire a San Donato. Sappiamo che sono stati acquistati terreni, sappiamo che c'è un Inter che comunque è partito, i tempi sembrano essere ovviamente biblici come sempre, ma almeno c'è una carta firmata. Ecco, c'è un qualcosa che apparentemente ci dà l'idea che quella cosa lì stia procedendo. Dall'altra parte, invece, per l'Inter, a quanto pare, decaduta l'idea di costruire insieme lo stadio a Milano, l'Inter, sì, avrebbe individuato Rozzano, ma insomma loro sono un po' più lontani rispetto a noi da questo progetto. E probabilmente in questo senso, cioè il fatto che l'Inter sia un po' più indietro rispetto a noi con il progetto, con l'idea del progetto e tutto quanto, probabilmente questo ha portato il sindaco di Milano, che tra l'altro ha anche simpatie non nerazzurre, ma credo che questo poi incida relativamente su tutta questa vicenda, che poi alla fine è come sempre una vicenda economica, rivolga la sua attenzione all'Inter. E quindi la possibilità è che magari l'Inter rimanga ospite di San Siro, magari gli paghi anche i lavori di ristrutturazione al comune, che però si tiene poi San Siro e magari gli fa qualche sconto sull'affitto, qualche cosa del genere, buon chi lo sa. La cosa però che mi ha colpito di più in tutta questa vicenda, dove ripeto, io parlo da uomo della strada, non abitando nemmeno a Milano, quindi essendo totalmente di fuori di tutte quelle tematiche legate anche ai comitati di quartiere, agli ambientalisti, agli opportunisti, ai camionisti, e a tutto quello che finisce inisti, non so niente, leggo e capisco che tutta questa vicenda è stata una vicenda legata soprattutto a questioni di contrasti tra il mondo politico e il mondo imprenditoriale, di burocrazia, di una giunta di Milano che, insomma, progressivamente col tempo ha fatto un po' di tutto per inamicarsi Inter e Milan nell'idea di costruire qualcosa, perché era stata trovata la zona, da Mauro, eccetera, eccetera, poi dopo i comitati di quartiere, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che il paradosso potrebbe essere questo, il paradosso potrebbe essere che i comitati di quartiere che si sono opposti alla ristrutturazione di San Siro o alla costruzione, per meglio dire, alla costruzione del nuovo impianto, poi si trovi da un San Siro magari abbandonato che diventa anche potenzialmente ricettacolo di persone poco raccomandabili. Quindi, per assurdo, questo potrebbe essere addirittura il grandissimo finale della giunta di Milano. Ma, venendo poi alle cose, ecco, sulle quali io posso esprimere la mia opinione, perché sono questioni estetiche, oggi è stato presentato, è stato presentato oggi, non lo so se siano di oggi, ma insomma sono recentissimi i rendering della, appunto, del nuovo, del nuovo San Siro. Qui troviamo Prima Milano, questo sito, prima di tutto, milano.it, che ci mostra alcuni rendering. Sono quelli a sinistra, non quella povera scimmietta. E neanche questo signore qui, che insomma lo conoscete bene, il presidente Fontana. Vanno allo zoo coi figli, poi tornano ogni notte per rapire il cucciolo di macaco e picchiano la sua mamma. Però, complimenti, che bella gente che c'è in giro, eh. Allora, i rendering sono un po' questi qui. Adesso vi faccio vedere dov'è. Eccolo qui, la fotogallery, no? Questo potrebbe essere una vista da fuori della zona, poi i seggiolini, vedete, con i seggiolini tutti nuovi. Poi si va avanti e c'è ancora questa vista. Ecco, qui cominciamo già a entrare un po' nella dimensione PC Calcio. Ora, chi si ricorda di PC Calcio? PC Calcio è stato un gioco, alla fine degli anni... alla fine degli anni 90, un gioco per computer, videogame, insomma, su DVD, dove tu potevi diventare allenatore di una squadra di serie A. Era fatto molto bene, secondo me, per l'epoca. Era un progetto italiano, tra l'altro, che poi dopo non ha avuto riscontro. Ma, insomma, ecco, qui cominciamo... Ecco, qui c'è proprio la dimensione PC Calcio. Su queste due schermate, no? Su questi due rendering di San Siro. Questo San Siro che diventa bianco e rosso, con i colori, di fatto, del comune di Milano, dove, appunto, c'è... si intravede qualche idea, no? Perché poi il progetto prevederebbe una riduzione di qualche migliaio di unità dei posti, proprio per cercare di alleggerire la struttura, creando un altro anello, un pezzo di anello, se capito mica tanto bene quella roba lì, ecco. E qui vedete, entriamo proprio nella dimensione, eccola qua, PC Calcio. Guardate un po' che rendering. Verrebbe anche da chiedersi se, in un certo senso, effettivamente tutto questo possa invogliare poi le società, rimanere, no? Perché dici, ma ti faccio vedere che idee avrai in mente e poi te ne esci con questi rendering da PC Calcio, senza nulla togliere a chi li ha fatti, probabilmente siamo proprio al livello preliminare, ma anche i preliminari dei progetti, ad esempio, del Milan, avevano comunque un po' di gente, un po' di colore, un po' di 3D fatto bene, un po' di dimensione, no? Ecco, qui siamo proprio al rombo e mi ricordo che c'era anche, mi ricordo da giovane, c'era un programma dove potevi modellare, diciamo, in 3D per realizzazione dei videogiochi rudimentali e c'era proprio una cosa, una cosa del genere. Qui, invece, questo sito si chiama Urban Life, la voce delle città, dice Milano San Siro, questo è un articolo del 20 gennaio, Milano San Siro, e se il comune rimettesse a nuovo lo stadio, anche qui abbiamo un'altra versione, vedete il rosso-nero-azzurro che un po' domina, no? riguardo a questa cosa, qui vediamo che c'è questa, sopra questo, il classico, la classica torre che poi si percorre per entrare a San Siro, no? qui vediamo un'altra foto, ecco, qui è un altro rendering, qui è PC Calcio, proprio questo qui è PC Calcio, e tra l'altro si trova ancora, si trova da qualche parte in rete, quindi se lo trovate, fatevi un giro su PC Calcio, perché è un gioco che secondo me vi può appassionare anche adesso, soprattutto se avete la mia età e siete passati attraverso videogiochi di un certo tipo. Ecco, questo è un po' il punto della situazione, se il sindaco Sala e la giunta di Milano volevano provare a, così, a rilanciare il fuoco della passione nei confronti del loro rapporto con Inter e Milan, l'hanno fatto attraverso questa idea. Credo che ormai sia tardi per quel che riguarda noi, credo, anche se dopo, insomma, con la vicenda dello stadio e anche del Milan ne abbiamo viste di tutti i colori, cambiare repentinamente da un giorno all'altro. Sono anni che ormai aspettiamo questa posa della prima pietra, un progetto fatto bene, un'idea, vedremo, insomma, che cosa succederà nei prossimi mesi. Quel che è certo è che spesso il Comune di Milano si è trovato, così, ripeto, sempre da uomo della strada che osserva e legge le notizie, sempre si è trovato, spesso si è trovato in una posizione molto di muro, molto di, così, nel tentativo di forzare quella che è la sua volontà e cioè che le due squadre rimangano a San Siro e senza tener conto del fatto che magari c'era la volontà sicuramente da parte nostra, manifesta, ma forse all'epoca anche dell'Inter, di fare qualche cosa, cioè di costruire qualche cosa nell'eterno problema delle infrastrutture italiane che, sì, noi parliamo degli stadi, ovviamente, ma è un discorso più ampio, che si fa fatica a fare, che si fa fatica a realizzare, che si fa fatica a portare avanti, anche con i tanto amati da tanti investitori stranieri che vengono qui, porterebbero anche il denaro, porterebbero anche la competenza, perché adesso non è che si deve parlare sempre male, insomma, porterebbero la possibilità di fare qualche cosa, di fare qualche cosa e si trovano di fronte, come sempre, al muro burocratico, vuoi per i comitati, vuoi per i politici, vuoi perché poi cambiano gli orientamenti e ognuno va per sé e quindi questa è un po' la situazione stadio.